Si stringono le relazioni tra Kiev e Washington, sale la tensione al confine tra Russia e Ucraina, dove Mosca sta dirottando unità militari. L'OSCE continua a registrare nuove violazioni al cessato il fuoco, concordato lo scorso luglio, specialmente nella regione del Donbass. Secondo fonti ucraine, da gennaio, 20 soldati sono stati uccisi e più di 50 feriti. Kiev ha chiesto una riunione di emergenza della Commissione Trilaterale, composta da Unione Europea, Russia, Ucraina. Mosca dovrebbe cessare l'escalation militare e riaffermare immediatamente il suo impegno per una soluzione politica e il cessate il fuoco, ha detto il ministro degli esteri ucraino. La nostra preoccupazione è legata alle aggressioni russe in Ucraina orientale. Naturalmente saremmo preoccupati da qualsiasi tentativo da parte della Federazione russa di intimidire i suoi vicini e i nostri partner, e l'Ucraina è tra questi, ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato americano. Dall'annessione russa della Crimea del 2014, gli Stati Uniti hanno investito circa 2 miliardi di dollari nelle forze armate ucraine per migliorarne l'equipaggiamento ma anche la capacità operativa. Il ministro degli esteri russo Lavrov sottolinea i rischi delle ingerenze occidentali. Da un lato il confronto ha toccato il fondo, come si usa dire, ma dall'altro c'è una speranza nel profondo dell'anima per il fatto che abbiamo a che fare con persone adulte che si rendono conto dei rischi legati a un'ulteriore escalation. La guerra in Ucraina ha fatto più di 13 mila vittime, soprattutto in occasione degli scontri del 2014-2015. Del Cremlino fanno sapere che i recenti movimenti di soldati e di materiale militare vicino ai confini con l'Ucraina mirano a garantire la sicurezza di Mosca.